e sono tutti io sono stiletto in questo nuovo video dove rispondo ai vostri commenti sponderò a 25 dei vostri commenti forse anche di più perché ci sono commenti un po molto corti quindi sia da rispondere che come dire quindi e quindi dire di subito di iniziare di non per tempo e cerchi piedi ci scrive sempre figo sempre figo e grazie mille cerco piedi ti ringrazio mille dei tuoi commenti mi riempiono davvero il cuore grazie mille sempre cerco piedi ci fa un altro commento fa adoro le parti comiche mi fa molto piacere che che il mio canale ti piace sono molto contento che il mio canale ti piaccia grazie fabio bro un piccolo consiglio non chiudo le ginocchia verso l'interno quando sai che a lungo andrai lungo andare ti farei andare ah 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 Eh sì! Eh sì! Chiudo proprio le ginocchia all'interno, sì è un po' un errore, dovuto più che altro che io ho gli adduttori, questa parte qua, questa parte qua, questa parte qua è un po' debolluccia, questa parte qua è un po' debolluccia e quindi ecco, inizialmente ad anticarichi nel squat mi viene più da piegare il ginocchio verso l'interno e per questo si prova bene le esecuzioni così, però questo è il motivo principale. Prossimo commento abbiamo Cerco Piedi che ci dice wow, cuore per te, cuore per te e cuore per tutti noi. Poi abbiamo un altro commento che non mi piace, ovvero abbiamo Iron Frank che dice metti qualche muscolo prima e poi ti fai video. Questo commento è un commento, secondo me, che... del tutto, è un commento del tutto sbagliato, perché una persona deve avere il diritto di parlare e di iscriversi come cavolo vuole, in qualsiasi forma che vuole, chiunque sia. Io non insegno nulla nel mio canale, non faccio tutorial sul mio canale. Nel mio canale ci sono solo io che faccio video e mi mostro quello che io faccio, non sono tutorial, non sono insegnamenti. Sì è vero, se qualcuno prendesse ispirazione dei miei video e vi facesse a casa lui mi darà aver molto piacere, sì, però non sono a scopo di insegnamenti i miei video, ok? Io sinceramente riprendo le mie imprese e cerco anche di coinvolgervi nelle mie imprese, perché mi piace, mi piace avere una community che mi sostiene e che mi... mi chiamo... mi tiene compagnia e che magari collaboriamo insieme sui video su YouTube. Questo è quello che faccio io. Giusto o cosa è sbagliato? Dovete seguire i vostri ideali, i vostri ideali. Dovete imparare a seguire i vostri ideali. Perché se non si fa, non si arriva dando... Perché i commenti come voi, i commenti come voi, chiudono le ali a chi solo ci vuole provare. Ed è sbagliato. Tutti devono essere... tutti hanno la possibilità di provare come tutti gli altri e di fare come tutti gli altri. Cioè... Ragazzi... Davvero... Sì... Commenti qua... Soprattutto sono un commento proprio... Che vabbè... A me non interessa nulla. Io continuo lo stesso da per la mia strada. A qualcun altro può veramente dare fastidio e tappare le ali a qualcuno. Prossimo commento... Abbiamo... ShavaduTV... ShavaduTV che ci dà... Tempo che arriva... Abito che porta... Si è stato i miei quattro... Eh... Tra poco... Tra un po' di anni... Di scuola vedrete... Oggi... Tra qualche anno arriverà quel momento... Nelle scuole arriverà quel momento che tipo... Ragazzi... Oggi... Faremo... Stile Stanzio... Il grande poi... Stile Stanzio... Era un grande youtuber... Era un grande... Big... Ci sta eh... Come roba... Abbiamo sempre... Cerco Piedi che ci dice... Fantastico... Come ogni giorno... Grazie mille... Cerco Piedi... Grazie mille... Grazie mille... Grazie mille... Tu commento... Mi fanno sempre un sacco... Piacere... Si... Prossimo commento abbiamo... La vita è mia... E faccio come mi pare... Questo qua è il nome del... Del... Del commentatore... Squat di... Ti fai male... Ti fai male... Ti fai male... Ragazzi... Sono... Ragazzi... Io sono neanche... A un anno di palestra... Cioè... Sono i momenti... In cui mi sto apprendendo... Dove... Gli errori... Sono all'ordine del giorno... Direi... Non penso che voi... In prima alimentare... O in prima media... O in prima superiore... Eravate tutti... Tutti imparati... Come si... Tutti imparati... Come si suol dire... Ragazzi... Grazie mille... Di... 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 Di apprendere... Tuttiagini... Ci... Mi evita ancora di... Di fare... Tanti... Comenti... E di mettere un bel piace al video... Che è molto importante che... Mi... Dà un sacco di conforto... No, della giornata... Iscrivetevi al... Al canale... Mi raccomando... Iscrivetevi al canale che da... E' molto importante... Mh... Mi... dà un sacco di motivazione per andare avanti ragazzi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video e bye bye ciao ciao